Ah buongiorno a tutti youtubers e benvenuti a questo nuovo video di Giorgio Love Cats Più che buongiorno secondo me dovrei dire buonasera perché sono già le 21.52 cioè le 9.52 Oggi è venerdì 23 maggio, penso che però questo video lo caricherò domani quindi va bene anche buongiorno E oggi è un giorno molto importante, non solo perché ho le news, c'è proprio un evento importante oggi Comunque iniziamo con il video Come potete vedere a casa mia, cioè allora in questo video io non ho molte news come l'altro video, come il video precedente Che si sta caricando in questo momento Però ho delle news Allora praticamente adesso in casa mia c'è Bianca Scusate Poi c'è Birba E infine abbiamo un nuovo ospite, questo micetto che avete visto di sfuggita due secondi fa Lui è un gattino che mi sono comprata venendo qua Ma per i fan di Coquita mi dispiace dirvelo ma c'è una bruttissima notizia Scusate Se vi ricordate vi avevo detto che Birba era il mio ultimo cane E quindi dopo di lei non potevo prendermi più animali E voi vi chiederete come ho fatto a prendere sto gatto Se dopo di lei non potevo prendere più nessun cane O nessun gatto E poi io mi sono presa un gatto Ma allora ci hai detto una bugia, potevi prenderlo ancora un cane No io non ho detto nessuna bugia Non potevo più prendermi i cani Ma purtroppo ho dovuto donare Coquita Per potermi prendere questo gattino Quindi Coquita io non ce l'ho più Potrete continuare a vederla comunque nei video precedenti Per il momento però io non vi farò vedere il nome di questo gattino Rimarrà gattino misterioso Fino al prossimo video Che sarà diviso in due parti In modo che voi potiate salutare tutti i cani Perché il prossimo sarà l'ultimissimo video di questa versione Perché forse domani faccio un salto al GameStop E forse con l'immensa gioia di Pappi Channel e Keach e Doggius 2 Riuscirò a comprarmi una nuova versione E fare nuovi video con nuovi cani e gattini Con nuovi cagnolini e gattini Iniziamo con le news perché sta già durando abbastanza Allora, Bianca è una lano casual, corporatura è pernutrita Vabbè lo sapevate I comandi li sta fino a gira Vabbè anche questo lo sapevate Risultati gare nessuno Perché in realtà aveva vinto qualcosa Ma prima quando voi non ci eravate e non ho salvato Fulba come suona L'unica cosa è che sono cambiati i punti addestratori che sono diventati 233 Ed è una femminuccia dal carattere fiero che non si sente a suo agio con gli altri animali Beh, indietro Ok, ora c'è Birba È una lano casual, femmina, ipernutrita Fa meno male, siete moltissime È il pelo corto pulito I comandi li sta fino a gira Vabbè lo sapevate Risultati gare nessuni Anche lei però li aveva vinte Li aveva vinte E non Però non Aspettare aveva vinte Però non l'ho salvato Fulba come sono I punti sono diventati 250 Vabbè adesso è venuto il gatto Vabbè Ed è una femminuccia altrettosa che tende a monopolizzare le attenzioni del suo padrone Ve l'avrò letto 50 volte E Non devo farvi vedere il nome Quindi ve la leggerò così Allora Questo è un gattino comune Ed è sovrappeso Fa meno male Siete normale per pulito Ha 10 punti ed è un maschietto birichino Che ha da ficare il naso ovunque Questa è la descrizione del gatto Allora Se avete notato Ho cambiato lo stile di casa È lo stile fatato Non è più lo stile rustico Perché non mi piaceva È il mio preferito questo Quindi infatti C'ho questo Poi ho delle news sugli oggetti Allora Praticamente Vedete Sull'arredamento Avevo Se vi ricordate Un sacco di cose Alcune le ho vendute Alcune le ho tenute Ho tenuto la cuccia Il divano E ho comprato Il tavolo a fungo E il televisore Aspettate Poi non so Ah scusate Mentre non ce ne eravate Ho comprato Anche questi occhiali Poi altri occhiali Cioè ho comprato Vabbè Ho comprato Il cappello Il cappello Ho gli occhiali Compresi quelli da sole E gli occhiali a stella E Poi ho anche Una news sul diario Mi sembra No Non ho scritto niente Ah Se vi ricordate Vi avevo detto Che io Mettevo la foto Ma non mettevo Il messaggio Perché ve lo facevo Scegliere a voi Scusate Ve lo ridico Perché si è bloccato Se non sbaglio Avevo detto Che io Mettevo la foto E voi decidevate Il messaggio Da mettere sotto Ok Ora cambiamo la foto Aspetta Una più bella Questa D'accordo Conferma Edita messaggio Cancello Che buono E voi mi scrivete Sotto nei commenti Quale Che cosa volete Che io scriva Su questo Messaggio E potete Scegliere anche Il regalo E niente Io direi Di salvare Anche perché Il nintendo Mi si sta scaricando E Allora Bianca Vi saluta Anche Birba Vi saluta E Tanti saluti Anche dal Gattino Misterioso Che nel prossimo video Naturalmente Scoprirete Come si chiama Ciao 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 Grazie.